Salve a tutti, sono Giovanni Di Apico, fondatore di AudioFollia.it. AudioFollia è principalmente un portale di servizi musicali online. È una web-zine di recensioni musicali e comunicati stampa. Uno dei principali servizi è quello della realizzazione di canzoni su commissione. Questo servizio a sua volta si divide in due parti, quindi delle canzoni inedite per un eventuale repertorio, per partecipare a dei concorsi ad esempio, dove in genere si realizza sia la musica, il testo e anche l'arrangiamento. L'altro caso è quello delle canzoni personalizzate da regalare per qualsiasi tipo di evento. Che sia un San Valentino, una festa di laurea, un compleanno, un anniversario, sono due modi estremamente diversi di scrivere canzoni. Si producono colonne sonore per cortometraggi, film, pubblicità, oppure per eventi ad uso teatrale o mostre artistiche. Così come generiche segreterie telefoniche. Un altro servizio è quello degli arrangiamenti, rivolto soprattutto a cantautori oppure autori in generale. Magari si può avere semplicemente una melodia in mente, oppure una bozza che sia chitarra o piano e voce. Si realizzano bassi musicali personalizzate, a partire da zero, che siano brani editi o inediti, così come si producono anche beat e pop, dubstep o elettronica in generale. Fondamentalmente non ci sono confini di genere musicali. Tant'è che potete trovare una vasta gamma di S&P audio. Si effettua la trascrizione spartiti sia per deposizione SIAE che per uso personale. Audiofolie si occupa anche di servizi collaterali, come ad esempio la realizzazione di videoclip a basso costo. Nel sito, in un'apposita sezione, potete visionare una grande quantità di produzione video. Rimango sempre disponibile per ogni tipo di chiarimento sui servizi o per preventivi senza impegno. Sono reperibile anche al di fuori degli orari di lavoro o dei giorni feriali, in quanto fondamentalmente il mio lavoro è la mia più grande passione. Lascio la parola a Francesco che spenderà due parole per quanto riguarda l'aspetto websyn. Salve, sono Francesco Lenzi e collaboro con Giovanni Diapico negli Assassini del Pop e anche su Audiofolia, nello studio di registrazione di Audiofolia. Due parole sulla websyn. La websyn praticamente è curata quasi interamente da me, con qualche sporadico collaboratore e praticamente mi occupo di recensioni di tutti i generi di musica, in prevalenza rock di tutti i tipi, però tratto anche cose più estreme come la musica sperimentale, il jazz e perché no? Anche roba non estrema, il pop, quello che capita insomma. Perché noi siamo della mentalità che va trattata tutta la musica, siamo molto aperti, e quindi perché non dare spazio a cose anche diverse dal nostro background. Un caro saluto e alla prossima!